come siete i pezzi come si fa la mula tutte le volte è indossita tutte le volte è graziato un'arima è spizzita però anche questa qua vai bravo e qua ti un applauso due donne come sono qui dai dai bravi ancora vivi ah è incredibile è incredibile ecco Rosanna la piccina Fabione number one Fabione Fogazzi ce l'hai fatta numero uno oh ma è tutto rosso questo è il segretario è tutti rossi bravo 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 bravo